che siamo qui per riaffermare la centralità di quel che si può chiamare pensiero solare il punto di incontro tra le rigidità delle ideologie, della battaglia delle idee che si discioglie nella luce meridiana dello spirito mediterraneo ok ma perché perché ce l'abbiamo tutti noi comunque il mio pensiero solare oggi va a tutti voi salve amici e amiche allora ho aperto il video di oggi così giusto per ridere no perché alla fine è un po' così in che senso rispondo a un commento di un utente che evidentemente era iscritto dalla prima ora e mi ha scritto una cosa del genere sono scioccato dalla tua ignoranza politica giuro lo sai ti seguo da quando avevi pochissimi iscritti e facevi le live col tuo amico pilota e quando debancavi Andrea Lombardi boh è vero che sono ignorante politico comunque lo ammetto l'ho detto tranquillamente non me ne intendo di politica e lungi da me anche affrontare certi argomenti comunque non ho mai fatto una live con il mio amico pilota perché diciamo vorrei che rimanesse nell'anonimato e poi non ho mai debancato Andrea Lombardi ho semplicemente fatto un paio di video in cui spiegavo che aveva ragione Parabellum nelle tattiche TOS utilizzate dai russi insomma poche parole Andrea avrà fatto anche dei video validi però quando parla di tattiche militari un po' dimostra qualche carenza tutto qui poi fra l'altro i due video di Andrea Lombardi ho fatti molto dopo aver iniziato comunque la critica che mi viene mossa in questo commento di questo eventualmente affezionato che ha deciso di disiscriversi e che insomma non accetta che io parli di politica in particolare le mie quasi critiche alla sinistra allora lo ripeto perché magari non era chiaro io sono una persona moderata non sono schierato fondamentalmente un po' come tutta la mia generazione che si trova tranquillamente in crisi vista la situazione politica attuale diciamo che per mia natura sono una persona che non se le tiene molto poco diplomatico ecco quindi se dovessi parlare di politica italiana tirerei giù tutto quello che c'è da tirare il problema qual è? perché non posso parlare apertamente delle cose? perché a destra come a sinistra ma soprattutto a destra c'è un clima di repressione per cui basta che fai un minimo di accenno a qualche persona o chi che arrivano le querele in Italia funziona così e siccome ci tengo la salute diciamo che mi preoccupa di meno il tè al Polonio di Putin che è le querele da parte di certe fazioni politiche italiane quindi è per questo che non mi occupo di queste cose e non voglio farlo tanto per fare un esempio diciamo che in Italia è illegale parlare di un certo ponte figuriamoci se iniziassi a fare nomi quindi caro utente mi dispiace del tuo disappunto ma le cose stanno così poi chiaramente io mi occupo di altro cioè mi occupo di analisi militare sono uno studioso di queste cose più che un analista e cerco di portarvi questi contenuti quindi al massimo tratto la politica estera quando i nostri politici trattano la politica estera tra l'altro ecco proprio per citare il discorso qualche tempo fa un mese fa avevo proprio parlato di questo del fatto che l'Italia mentre supporta l'Ucraina intanto fa affari con gli stati che sono tranquillamente la via di passaggio per le nostre merci verso la Russia quindi insomma più di così chi vuole intendere intenda no? chi ha orecchie per sentire sente e capisce un po' i miei discorsi fra le righe ora andiamo avanti devo fare una rettifica perché il video che vi ho portato ieri del cosiddetto furgone con tanta tanto pensiero come devo dire bipolare in cui mostrava gay power e poi altre altre simbologie in contraddizione fra di loro in realtà era un video vecchio mi è stato segnalato da un caro amico quindi devo fare una rettifica insomma che era un video del 2021 che era un po' una forma di manifestazione antisemita ok? quindi non c'entra niente con il discorso diciamo che ieri ho usato questo video semplicemente come gancio per segnalare un attimino di incongruenza controsenso per le comunità LGBT che oggi si schierano per la palestina e volevo giusto sottolineare il fatto che per lo stato islamico per l'islamismo le comunità LGBT non dovrebbero proprio esistere in questo video che vi passo il link in descrizione c'è questo rappresentante della comunità LGBT che ci manca poco che viene preso a schiaffi da una donna della religione islamica che le dice chiaramente voi non siete benvenuti non c'entrate niente con il nostro con la nostra religione quindi questo era il semplice gancio ora andiamo avanti passiamo a notizie più importanti allora la notizia dello schieramento di circa 10.000 unità nordcoreane in Ucraina sta facendo il giro del mondo e suscitando non poca indignazione perché di fatto in questo momento l'Ucraina sta combattendo contro due nazioni la Russia e la Corea del Nord entrambe potenze nucleari fra l'altro quindi insomma è una cosa non di poco conto fra l'altro ne parlano molti e ci sono già casi di defezioni addirittura il kiev post parla di 18 soldati della Corea del Nord che sono che hanno disertato ora la situazione in Corea del Nord è veramente drammatica credetemi le persone letteralmente muoiono di fame che tipo in Africa vivono nel lusso nel frattempo cioè i 200 euro al mese che medi che prende un russo a confronto sono una vita agiata nel lusso a tale riguardo vi porto un paio di interviste questo è Joseph Kim che ha parlato a una convention al TED che racconta la sua esperienza quando era ragazzo poco più di un bambino che scappò dalla Corea del Nord vi passo il link in descrizione è difficile trovare delle parole adatte per descrivere la sua esperienza quindi guardatelo con i vostri occhi è anche quest'altro caso di ho si un seo lì e io son seo lì qualcosa del genere sono due ragazzi scappati dalla Corea del Nord per colpi di fortuna diciamo così quindi questa è la situazione e non è delle migliori in Ucraina allora andiamo avanti perché insomma del matrimonio fra Russia e Corea del Nord ne ho già parlato in passato è una cosa molto vergognosa che non si può vedere non si può sentire e penso che sia una delle cose più vergognose del nostro tempo non ci sono parole allora affrontiamo alcuni argomenti legati agli aggiornamenti del fronte che sono molto interessanti allora intanto vi porto l'attenzione questo drone sviluppato dagli ucraini che ha un ruolo secondario ma di vitale importanza lo vediamo è semplicemente un'esca comunemente chiamato decoy in gergo militare come vedete ha i bordi d'attacco in metallo che servono proprio per amplificare il ritorno radar e questo permette una lo schieramento di uno sciame di queste esche per nascondere magari i droni che poi vanno a colpire i reali obiettivi molto interessante perché ci dimostra ancora una volta come la guerra dei droni si sta evolvendo in questi tre anni di conflitto e prendendo nuove definizioni i droni oggi hanno letteralmente assunto un ruolo fondamentale non più secondario nel conflitto servono per missioni anti fanteria missioni di strike oca vanno a ricoprire molti dei cosiddetti task cioè missioni che prima erano a pannaggio esclusivo dell'aviazione per intenderci quindi tutto sta cambiando e l'ucraina è assolutamente in questo momento ci sta mostrando come si evolvono le cose dati di intelligence fra l'altro nell'interland di mosca è stato è stato terminato per dirla citando dei film di fantascienza un colonnello dei servizi segreti russi nikita klankov era rientrato una settimana fa dal fronte ucraina ucraino ed è diciamo ci ha lasciato in circostanze misteriose altra notizia che arriva dalla turchia è stata data all'ucraina un'unità una corvetta classe corvetta in realtà è una nave che ha capacità lancia missili la vediamo in questo breve video ha anche un piccolo hangar per elicotteri non è di grande dislocamento ma è un pattugliatore di altura o di mare aperto come vogliamo dire c'è chi è più esperto di me in questi termini e questa nave è questa nave qui che ha appunto è una nave molto moderna è uscita ai primi anni del 2000 entrata in servizio nel 2011 quindi proprio giovane come unità è stata data agli ucraini fra l'altro è capace fra le altre cose dotata di una torretta otto melara come sempre l'italia è leader per la costruzione di questo tipo di armi balistiche in più può trasportare siluri due siluri da 324 mm e otto missili antinave Harpoon o Atmaca quindi la nave ha delle discrete capacità per quanto riguarda l'aggiunta alla flotta ucraina andiamo alle notizie dal fronte dalla regione di Kursk non ci sono grandi cambiamenti almeno per quello che riguarda le posizioni arrivano però dal Cuneo creato dalla Russia in questa in questa zona arrivano dei video che definirei sconcertanti allora se posso descriverlo però non ve lo posso far vedere credo che sia questo c'è un BMP russo che è il classico mezzo blindato a 6 ruote dove sovente vediamo i soldati russi cavalcarlo sul tetto c'è uno di questi mezzi che va incontro a due carri armati ucraini credo che siano dei T-72 qualcosa del genere la distanza che li separa è di circa 150 metri e c'è questo mezzo che corre nel campo incontro ai due tank che stanno sulla strada a un certo punto arrivano a distanza di non so sarà una cinquantina di metri anche meno ovviamente il tank ucraino distrugge il BMP con tutte le persone a bordo alcuni sopravvivono cercano di nascondersi fra le serpaglie e nascondersi nella vegetazione però è assurdo come ci sia stato questo episodio voglio dire non ha nessuna spiegazione da un punto di vista militare l'ennesimo caso di non so come descriverlo non posso usare certe parole però è veramente una follia un assalto del genere di sola andata allora le notizie interessanti per oggi in realtà non vengono dalla regione di Kursk ma dall'apertura di un altro fronte da parte ucraina verso Zurakleva qui quest'area di foresta è stata liberata da parte ucraina già viene confermata come notizia vedete in questa immagine quindi gli ucraini nei giorni scorsi vi avevo parlato di questa di questa incursione gli ucraini avevano già creato una zona a cuscinetto in quest'area e qui adesso la Deep State non è ancora aggiornato avevano bombardato con artiglieria e attacchi dronici quest'area quindi nelle retrovie e oggi vediamo la loro avanzata in questa direzione quindi le cose si fanno interessanti e di fatto stiamo assistendo a prima vera incursione con testimonianze e geolocalizzazioni di una vera e propria incursione nella regione di Belgorod quindi è interessante questa cosa questa notizia è sicuramente interessante altre informazioni che posso darvi arrivano dalla città di Toresk come vedete è interessata da intensi combattimenti ci sono truppe ucraine sconfitte ci sono truppe russe sconfitte ci sono attacchi dronici il numero di queste geolocalizzazioni e dei video e dei report è impressionante dobbiamo considerare che solo una piccola parte delle azioni sono testimoniate da video non è che per ogni azione abbiamo un video i russi stanno conducendo qualcosa come 100 150 assalti al giorno in Ucraina cioè questo ci dà un'idea dell'intensità del conflitto quindi Toresk le immagini che arrivano da Toresk da tutta quest'area ormai è una città distrutta cioè rimangono gli scheletri degli edifici e in quelli si combatte quindi altri aggiornamenti come al solito assistiamo a una lenta progressiva avanzata verso Kurakove da parte russa con questa operazione a forma di cuneo che potrebbe chiudere quest'area e questo è quanto quindi questi sono gli aggiornamenti che arrivano dal fronte qui vediamo l'utilizzo da parte Ucraina dei cosiddetti Dragon drone sono dei droni incendiari è interessante che stanno operando in quella che è la zona in cui è stata segnalata la presenza delle truppe nordcoreane questo è quello che riguarda gli aggiornamenti dal fronte andiamo avanti allora ieri c'è stato un discorso l'altro ieri di Zelensky che ha proposto cinque punti per la vittoria vediamoli così allora vediamoli uno per uno perché credo che l'ultimo sia veramente interessante il punto uno questa è una sintesi il punto uno dice che l'Ucraina deve entrare immediatamente nella Nato perché solo così può assicurarsi più sicurezza a sfruttare l'architettura logistica e internazionale degli aiuti e della del supporto militare da parte della Nato punto due l'Ucraina deve distruggere l'offensiva russa e contrastarla e anche fare continuare a fare operazioni in territorio russo per per creare diversivi e contestare il territorio russo in questo modo punto tre bisogna creare in Ucraina un pacchetto militare una forza militare che possa funzionare da deterrente anche in futuro in Russia sufficientemente potente da rappresentare un deterrente anche contro una potenza nucleare qual è la Russia punto quattro coinvolgere la partecipazione di tutti i partner europei in particolare per la protezione delle risorse critiche come l'uranio il litio la grafite il titanio per assicurare il mutuo beneficio economico questo è un punto molto interessante in poche parole l'Ucraina non solo richiede ancora aiuti militari ma propone la condivisione delle proprie risorse con l'Europa punto 5 questo è il punto più interessante da commentare oggi è il il fatto che l'Ucraina prendo il suo discorso perché è stato sintetizzato male dice punto 5 suggerire il rimpiazzo delle forze americane con contingenti in Europa insieme a quelli ucraini ok detto così può suonare male ma sentiamo le sue parole perché credo che sia un punto interessante il punto 5 perché gli altri 4 sono interessanti di loro ma col punto 5 siamo dai ricaricalo allora eccolo qui il punto 5 nel punto 5 Zelensky parla di una situazione dopo il conflitto dopo la guerra ok di quello che potrebbe accadere dopo la guerra dopo questa guerra dice l'Ucraina avrebbe e avrà una delle forze militari con più esperienza da un punto di vista militare ed è vero se dobbiamo considerare solo questo teniamo presente che nessuno nessuna delle nazioni europee oggi ha una reale esperienza di guerra su larga scala noi per decenni in Europa abbiamo sviluppato piccoli contingenti in grado di operare in situazioni di instabilità politiche guerre civili per dare supporto generalmente con grandi logistiche superiorità aerea e in situazioni asimmetriche ma nessuna nazione in Europa oggi ha una esperienza vera di guerra su larga scala almeno non come ce l'ha l'Ucraina e fra l'altro mi ricollego al discorso sui droni l'Ucraina ci sta mostrando nuovi modi di affrontare la guerra moderna con nuove tecnologie che stanno cambiando completamente le definizioni di guerra moderna quindi è vero che ad oggi l'Ucraina sta sviluppando una vera esperienza di guerra militare su larga scala ora prendete quello che sto dicendo fuori dalle righe lo dico fra i denti per fare un esempio i piloti ucraini oggi hanno mille volte più esperienza di combattimento vero rispetto per esempio ai piloti italiani che oggi noi non è che facciamo addestramenti particolari e addirittura stiamo a misurare il carburante con il contagocce perché giustamente in una situazione di pace le nazioni ragionano in termini economici più che di efficienza militare mentre l'Ucraina oggi deve ragionare in termini di sopravvivenza ed essere quanto più efficiente possibile dal punto di vista militare a prescindere dai costi quindi è vero quello che dice Zelensky che eventualmente alla fine della guerra l'Ucraina avrebbe un esercito profondamente formato sul campo di battaglia queste persone dice la mia gente sarebbero reali guerrieri sarebbero dei combattenti che hanno vera esperienza in una guerra moderna una esperienza di successo nell'utilizzo delle armi occidentali è un'esperienza varia nella loro interazione e sinergia naturalmente con i nostri partner con la Nato con le truppe Nato ed è un fatto oggettivo anche questo che le truppe ucraine si stanno formando in Francia in Inghilterra da tempo e si addestrano all'utilizzo di sistemi d'arma occidentali e questa esperienza ucraina dice Zelesky può essere usata dovrebbe essere usata per rendere più forti le difese di tutta l'alleanza dell'Europa e garantire la sicurezza di tutta Europa ed è una missione che vale la pena affrontare per i nostri eroi dice Zelesky quindi ci aspettiamo che se i nostri partner saranno d'accordo saranno d'accordo di sostituire e separare i militari i contingenti militari delle forze armate americane con le nostre e in collaborazione con le nostre ok allora questo è un discorso interessante nel senso non può sembrare assurdo il guerra fondaglio me ne rendo conto però ripeto la pressione che una nazione in tempo di guerra è completamente diversa da quella del tempo di pace se faccio un esempio storico se vediamo per esempio i progressi nelle tattiche e nelle tecnologie durante la seconda guerra mondiale nel giro di cinque anni di sei anni ci rendiamo conto che le cose sono cambiate molto rapidamente così in Ucraina abbiamo visto cambiare completamente le tattiche abbiamo visto per la prima volta un uso intensivo e massiccio dei droni in tutti i task di missione quindi il discorso è importante ma soprattutto è un gancio un strizzalocchio a un problema tipico dell'Europa cioè è il fatto che l'Europa attualmente deve fare molto affidamento sugli Stati Uniti per cui è un problema che gli Stati Uniti hanno sempre posto all'Europa e c'è quello di svincolarsi dall'aiuto americano eventuale e di creare una forza indipendente europea e quindi giustamente Zelensky dice potete fare affidamento su di noi sulla nostra esperienza in battaglia per rafforzare la forza europea ma ovviamente non fine a se stessa ma considerando che c'è una grande minaccia che è la Russia oggi ok questo ovviamente per i giornalisti italiani telegiornali può essere interpretato come un segnale di escalation ma in realtà è un discorso giusto è una direzione che l'Europa ha preso a partire dalla fine della seconda guerra mondiale si è instaurata una forza di coalizione a partire dagli anni 90 oggi esiste una forza aerea unita che è l'European Air Group per la tutela reciproca dello spazio aereo europeo quindi è chiaro che questo discorso va considerato se si deve parlare di Europa l'Europa deve essere in qualche modo indipendente dagli Stati Uniti e non può per sempre fare affidamento sulle basi americane sul suo territorio quindi è un discorso interessante quindi ecco questi sono i 5 punti proposti da Zaleschi le reazioni sono state tante sappiamo che per esempio il Cremlino non l'ha presa per niente bene per niente bene allora per concludere ve l'ho già proposto come video singolo ma penso che sia bellissimo faccio un'ultima considerazione su quello che sta succedendo in termini di politica estera che è dovuto essenzialmente alla criticità delle presidenziali americane perché al momento stiamo assistendo a due narrazioni diverse della storia da una parte si tende a esacerbare esasperare le sconfitte sul campo di battaglia da parte ucraina in cui c'è una narrazione che continua a ripetere che gli ucraini stanno perdendo che la Russia sta facendo il tutto e per tutto lo all-in mandando senza nessun rispetto per la vita dei propri soldati manda avanti migliaia di soldati così e ne perde altrettanti ogni giorno come vi ho accennato qualcosa come 100 150 assalti ogni giorno è chiaro che è un ritmo molto difficile e la situazione è grave sul campo di battaglia soprattutto perché la Russia non ha nessun limite nell'utilizzo di armi a lungo raggio missi da crociera sta attingendo a truppe dall'Africa dalla Corea del Nord insomma è una situazione di questo tipo mentre l'Ucraina deve tirare avanti con quello che gli forniamo con il contagocce e non può neanche usare le armi come dovrebbe quindi la situazione è drammatica ma la narrazione americana da un lato dalla parte del capello cotonato non so se avete capito di chi sto parlando vorrebbe una narrazione di disfatta cioè dimostrare che l'Ucraina non può andare avanti l'Ucraina deve perdere per forza e a quel punto come il capello cotonato ha detto bisognerà trattare con Putin e dargli territori cedergli dei territori che lui vuole che magari non ha neanche ancora conquistato smilitarizzare l'Ucraina insomma accettare la cosiddetta resa incondizionata se si accetta quella narrazione da parte di una fazione dei due candidati alle presidenziali americane questa è quello questo è quello che può succedere quindi un futuro in cui magari l'America si tira indietro forte di questi discorsi populisti e l'Ucraina dovrà andare avanti solo con il sostegno europeo dall'altra c'è un discorso realistico per cui è chiaro che la situazione sul campo è terribile è chiaro che l'Ucraina ha bisogno oggi di più armi e ha bisogno di che le restrizioni su quelle armi vengano tolte per poter colpire i nodi strategici e logistici della Russia è chiaro che deve continuare a resistere per poter dimostrare di potercela fare e avere il supporto della Nato quindi il sostegno da parte dell'amministrazione Biden ed eventuale futuro con la Harris potrà appunto dare più speranza da questo punto di vista quindi queste due narrazioni al momento si stanno contrapponendo è brutto dirlo purtroppo come sempre la politica americana si sta dimostrando capace di influenzare molto l'opinione pubblica i telegiornali i media e anche il futuro della guerra anche perché sappiamo ormai è un dato assodato che gli oligarchi i vertici al cremlino lo stesso Putin è molto attento a quello che sta succedendo in politica in America e questo determinerà anche il futuro quindi questa è la situazione per concludere vi lascio con un video che vi ho già passato di questa bambina meravigliosa che canta l'inno nazionale ucraina l'inno 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 e questo è quanto cari amici mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate un mi piace e come sempre un abbraccio alla prossima